Pedalare per passione. Sono tanti i ciclisti che il fine settimana indossano scarpette e salopette e salgono sulla loro bicicletta macinando chilometri. E la provincia di Pistoia storicamente è uno dei territori dove questo sport, sia agonistico che amatoriale, è più diffuso e praticato. Un'attività che è tra le più salutari per il benessere del corpo e della mente e quando questo viene messo a disposizione degli altri, magari per un'iniziativa benefica, ecco che il proprio benessere si unisce alla consapevolezza di fare del bene anche al prossimo. È il principio con il quale ogni anno muove la Olio Bonelli Ciclismo, una squadra dilettantistica di ciclismo che quest'anno ha voluto promuovere le iniziative dell'associazione italiana Lafora. La Lafora è una malattia rara e degenerativa che si manifesta nell'adolescenza e che conduce alla morte. Allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, tre componenti della squadra, Giuseppe Bossiello, Stefano Biondi e Riccardo Bonelli, si sono ritrovati al ciclodromo Alfredo Martini di Ponte Bugianese, destinazione Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa. Una cinquantina di chilometri ad andare, una sessantina a tornare da percorrere in un paio di giorni. Una pedalata, una biciclettata fra qui e il mare, con qualche tappa per incontrare gente e consegnare un messaggio sulla ricerca, una cosa importante, su questa malattia rara, la Lafora. Quando una malattia è rara è difficile anche trovare i fondi per la ricerca e quindi molto fa l'informazione. Con loro a dare il via alla pedalata di beneficenza alcuni rappresentanti dell'associazione italiana Lafora, l'ex campione di ciclismo Franco Bitossi e Luca Panichi, lo scalatore in carrozzina, che ha fatto un giro di pista insieme ai viaggiatori in bicicletta. Abbiamo combattuto tutti insieme cercando di provare a risolvere il problema. Il problema non l'abbiamo risolto, siamo stati vicini a Daniela Farfallina Libera di volare fino all'ultimo e il nostro compito è quello di continuare a farla vivere cercando di sostenere la ricerca e in questo caso il ciclismo chiaramente riesce a veicolare molto questi valori. Oggi c'è una bellissima presenza e soprattutto portare una comunicazione importante ai decisori per sostenere ancora di più quello che è una malattia rara che va affrontata in maniera sempre più frontale. L'obiettivo è riuscire a porre l'attenzione su questa grave malattia che nell'agosto del 2009 colpì Daniela, una ragazza di 16 anni. La malattia, la Lafora appunto, la portò via il 23 aprile del 2014. Questa è una malattia terribile perché ti leva, cioè perché mentre un ragazzo di 16 anni che ha la vita dentro, che spacca il mondo, gli viene tolto tutto lentamente o velocemente, dipende anche da vari casi. A che punto è la ricerca? Ci sono sviluppi per combattere questa malattia? Ma fortunatamente adesso la ricerca ha fatto un passo molto in avanti, si sta facendo la storia naturale della malattia, dopodiché ci sarà la vera e propria cura che è già stata trovata ed ha funzionato nei topi nel fermare questa degenerazione delle cellule cerebrali. Si spera che tra un annetto circa i ragazzi possano cominciare a prendere questo farmaco e quindi bloccare nello stato in cui è la malattia, che è già un bel passo avanti.